un saluto a tutti gli amici oggi vogliamo testare il ph del terreno dove noi poi pianteremo i nostri frutti i pomodori i cetrioli tutto quello che in pratica vogliamo allora il ph è molto importante perché in base al ph diciamo la piantagione quello che abbiamo piantato dà dei risultati maggiori o minori allora quindi noi dobbiamo imparare come si misura il ph allora ci sono diversi sistemi il sistema del ph elettronico cioè di una scatoletta che infilata nel terreno vi vi da un'informazione se il terreno è neutro se è acido o se è alcalino quindi questo è uno strumento che possiamo usare però non è che noi tutti i giorni misuriamo il ph perché una volta fatta la misura sappiamo poi quel terreno che caratteristica e poi è anche possibile modificarlo con l'aggiunta di determinati componenti che poi parleremo parleremo in seguito scava una piccola buca nel terreno usa un trapiantatoio oppure una vanga per creare una buca profonda circa 5 meno 10 centimetri smuovi il terreno e rimuovi qualsiasi tipo di detrito riempi la buca con dell'acqua devi usare acqua distillata e non acqua di fonte che si trova in qualsiasi farmacia l'acqua piovana è quasi sempre leggermente acida generalmente nemmeno l'acqua in bottiglia possiede un ph neutro versa l'acqua finché non si sarà creata una piccola pozzanghera fangosa sul fondo della buca inserisci la sonda del ph metro nel fango assicurati che il ph metro sia pulito e calibrato correttamente per ottenere una misurazione precisa pulisci la sonda con un fazzoletto o un panno pulito e inseriscilo nel terreno fangoso lascia la sonda nel terreno per 60 secondi e poi procedi con la lettura dei dati solitamente il ph si misura su una scala che va da 1 a 14 anche se il ph metro potrebbe mostrare una scala ridotta un valore di ph pari a 7 indica un terreno neutro un valore di ph superiore a 7 indica un terreno basico un valore di ph inferiore a 7 indica un terreno acido naturalmente i modelli di misuratori del ph sono diversi e di marche diverse per cui attenersi a quello alle istruzioni del costruttore effettua la misurazione più di una volta in posti diversi del giardino con una singola misurazione rischiaresti di rilevare una zona anomala perciò è consigliabile effettuare la misurazione in più punti per avere una visione dettagliata se i valori sono simili ovunque puoi fare una media se trovi un punto dal ph completamente diverso ti converrebbe segnare quella zona per distinguerla dal resto del giardino testare il ph del suolo usando il cavolo rosso prendi una testa di cavolo rosso e taglialo con precisione usando un coltello un tritatutto la soluzione creata con il succo di cavolo cambierà il colore secondo il ph a cui verrà in contatto riscalda l'acqua distillata fino a ebollizione l'utilizzo di acqua distillata pura darà un esito esatto aggiungi all'acqua distillata bollente il cavolo rosso appena tagliato mettilo in infusione per circa 10 minuti e poi estrai i pezzi solidi lasciando un succo viola questo succo deve avere un ph neutro di circa 7 prova il succo di cavolo versone una piccola quantità in due tazze separate in una aggiungi l'aceto mentre nell'altra metti il bicarbonato di sodio l'aceto è acido e virerà al rosa caldo la soluzione con il bicarbonato di sodio invece è alcalina e darà sull'azzurro o sul verde fa il test con il tuo terreno versa alcuni centimetri di succo di cavolo in una tazza pulita e aggiungi una due cucchiaiate di terra aspetta 30 minuti e controlla il colore della soluzione il porpora o il violetto segnala un ph vicino a 7 neutro il rosa significa che il suolo è acido con ph tra 1 e 7 più è acido il terreno più la soluzione sarà rosa l'azzurro o il verde da un ph tra 8 e 14 alcalino più il verde è vivo più il terreno è alcalino testare il ph del suolo usando aceto e bicarbonato di sodio prendi una tazza di terreno dal tuo giardino mettine alcune cucchiaiate in due contenitori separati aggiungi l'aceto in un contenitore se frizza significa che il tuo terreno è alcalino in questo caso non hai bisogno di andare al passaggio seguente aggiungi l'acqua all'altro contenitore con la terra mettine quanto basta che diventi molto umido e fangoso versa il bicarbonato di sodio in questa tazza se frizza significa che il tuo terreno è acido bene amici qui abbiamo imparato come si misura il ph del terreno che è importantissimo perché ogni ph si adatta a un tipo di pianta quindi è molto importante misurarlo e sapere perlomeno che tipo di ph abbiamo adesso che abbiamo imparato tutti i metodi e la prossima volta prossimo video impareremo come correggere il terreno perché è possibile farlo perché se io su quel pezzo di terreno devo piantare per forza una cultura ma non è compatibile col terreno stesso e ho la possibilità dopo aver fatto le misure naturalmente ho la possibilità di cambiargli il ph vedremo come si fa è possibile farlo e poi faremo una faremo delle tabelle e in pratica in base al terreno e quali piantagioni quali piante è meglio piantare o evitare bene io ho finito e vi ringrazio e per avermi ascoltato ci vediamo al prossimo video